Niente più auto parcheggiate nella centralissima piazza Sant'Angelo di Licata, almeno fino al prossimo 30 di agosto e fino al termine delle manifestazioni estive, molte delle quali si concentrano proprio nella piazza dove assede il santuario di Sant'Angelo. Da palazzo di città è stata emessa l'ordinanza con la quale viene disposta la disciplina veicolare in piazza Sant'Angelo, considerato, si legge nell'ordinanza, che la piazza è sede durante il periodo estivo di spettacoli e iniziative varie. La più attesa è sicuramente la processione del patrono Sant'Angelo che si svolgerà nella giornata di domenica 16 agosto e la piazza diventerà il fulcro dei festeggiamenti e il punto di ritrovo di migliaia di fedeli che assisteranno all'uscita prima e all'entrata poi a tardasera del Santo nel Santuario. Inoltre all'interno della piazza Sant'Angelo permangono delle strutture e attrezzature che potrebbero essere danneggiate dalla sosta e dalla circolazione indisciplinata dei veicoli all'interno della piazza. Ecco cosa dispone l'ordinanza. Disposto il divieto del traffico veicolare e della sosta è fermate sino alle ore 24 di tutti i giorni, sino al prossimo 30 di agosto e sino al termine delle manifestazioni estive. L'ordinanza consente altresì la sosta ai margini della piazza Sant'Angelo sul prolungamento della via San Francesco e della via Solferino. Dunque l'isola pedonale istituita nel centro storico si estende anche nella centralissima piazza Sant'Angelo. Dipartimento della Polizia Municipale e le Forze dell'Ordine avranno il compito di far rispettare l'ordinanza che è stata pubblicata all'albopretorio del sito online del Comune di Ricata.